Una mattinata diversa per i bambini della primaria di Pieve San Paolo. La Fabio Perini S.P.A., azienda leader nel settore della produzione di macchine per il tissue, insieme alla Onlus Mirko Ungaretti, ha organizzato un corso di rianimazione cardiopolmonare per i circa 140 alunni e gli insegnanti della scuola. Inoltre, durante una piccola cerimonia, l'azienda ha donato all'istituto scolastico un defibrillatore semi-automatico. I corsi di manovra e salvavita per i bambini sono stati tenuti dai volontari dell'associazione fondata da Stefano Ungaretti, dipendente della Fabio Perini, in ricordo del fratello Mirko, morto a causa di un arresto cardiaco. È un percorso che portiamo avanti da circa sei anni e sta prendendo piede, diciamo, non solo qui a Luca, ma un po' in tutta Italia, perché è stato dimostrato che insegnare a più piccoli queste manovre è di importanza per tutta la collettività. Le iniziative sono state sostenute dalla Fabio Perini, che con l'associazione ha già organizzato un corso di manovra e salvavita per la squadra d'emergenza che opera all'interno dell'azienda. Io credo che per tutte le aziende in zona devono fare qualcosa per la comunità. Per noi è importantissimo stare vicino, curare bene i nostri bimbi, insegnare quello che possiamo e dare un ritorno alla nostra comunità. I bambini si sono applicati con entusiasmo per prendere contatto con le manovre salvavita, una lezione che ovviamente dovrà continuare anche in futuro e che un giorno potrebbe essere decisiva per salvare una vita in pericolo. Grazie. Grazie.